io le posso dire una cosa la pesca è fortuna fino a un certo punto poi devi essere pure capace 80% fortuna, 50% pezzatura se tu che ne so quello che lancia a 200 metri no? e il pesce stasera mangia 50 metri non lo lanciamo noi ma poi è quello che lancia a 200 metri bravo Dio eh bravo ci manca solo il culo e poi abbiamo fatto il bimbo poi certo poi devi tirare fuori, ti mangia qualcosa e devi tirare fuori, devi sapere mettere ricola, devi sapere fà però si si, in caso si mangia te o mangia te poi in queste sanpecie ne so l'uno wow senti la cosa ma ce la fate aspettare